Nome, Beata Maria Romero Meneses Vergine. Nacque a Granada di Nicaragua il 13 gennaio 1902. Iniziata in famiglia agli studi artistici, rivelò un talento per la musica e la pittura. A 12 anni entrò nel collegio delle figlie di Maria Ausiliatrice, giunte da poco nel suo paese, dove imparò a conoscere Don Bosco. Nel 1923 divenne figlia di Maria Ausiliatrice e svolse una instancabile attività apostolica dando vita a grandiose opere sociali, specialmente in Costa Rica. Fece costruire case per le famiglie senza tetto, in modo da permettere una vita più dignitosa a tante persone abbruttite dalla miseria. Sorsero così le Ciudadelas de Maria Auxiliadora. In mezzo al susseguirsi di opere da organizzare, trovava spazi e momenti per una intensa vita mistica. Morì il 7 luglio 1977. Beatificata il 14 aprile 2002.